In questi giorni le attenzioni cestistiche sono rivolte alla nazionale di Meo Sacchetti che sta preparando i prossimi impegni di qualificazione per i mondiali del 2023. Azzurri ha lavoro nel centro di preparazione olimpica dell'acqua acetosa a Roma prima della partenza per San Pietroburgo. Venerdì 26 novembre il match con la Russia, poi il ritorno in Italia in attesa della gara con l'Olanda in programma lunedì 29 nel forum di Assago a Milano. Già in fase di pre-convocazione il commissario tecnico Meo Sacchetti aveva scelto quattro giocatori dell'Epicasa Brindisi, Mattia Udom, Rafael Gaspardo, Riccardo Visconti e Alessandro Zanelli. Saranno dodici i giocatori che partiranno per la Russia e tra questi dovrebbe certamente esserci Gaspardo. Nei giorni scorsi il forfè per problemi fisici di Niccolò Menion e Leonardo Totè aveva indotto Sacchetti a cambiare la composizione del roster a disposizione dell'Ital Basket. E così per il raduno dell'acqua cetosa sono stati convocati anche il trentino Diego Flaccadori e il bianco-azzurro Mattia Udom. Parliamo naturalmente dei 16 giocatori selezionati dopo la pre-convocazione. Del gruppo azzurro fa parte anche il giovane e talentuoso Matteo Spagnolo, Brindisino Doc, in forza alla Vanoli Cremona, che domenica scorsa, pur con la sconfitta interna con la Carpegna Prosciutto Pesaro, ha sfoderato un'altra prestazione di grande livello.